Musica Venerdì 25 maggio, buongiorno Ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TRG Molti gli spunti, quest'oggi si continua a parlare di Tari, della tassa sui rifiuti Con anche un intervento all'interno della pagina del Corriere dell'Umbria regionale del sindaco di Guadotadino Presciutti Che in qualche modo difende i sindaci sulle scelte fatte in merito al Tari E poi una bruttissima storia che arriva da Sisi con un padre che violenta sua figlia di 12 anni e che viene arrestato E poi violenza anche a Perugia, una signora aggredita finisce in ospedale, le volevano rubare la borsa, c'erano soltanto 7 euro Questi alcuni degli spunti, andiamo a leggere le prime pagine dei quotidiani In particolare il Corriere dell'Umbria che dedica la fotonotizia alla Sir, ma noi lo leggeremo nelle pagine dello Sport Titola in apertura Tari, la saga dello scaricabarile Sindaci chiamati ad un'operazione verità sugli aumenti vertiginosi della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti E poi i richiami, Umbria, trasporti, gara da 56 milioni di euro, Perugia, scippata una signora, bottino di appena 7 euro Spoleto, la crisi del teatro lirico, soluzione lontana A Bastia Umbra, la cronaca, un operaio cade da una impalcatura La prima pagina della Nazione, invece, riporta la cronaca Violentata dal papà, orribile vicenda da Sisi, 50 anni arrestato con questa gravissima accusa La ragazzina ha soltanto 12 anni Perugia, scippata e fatta cadere a terra, nella borsa aveva solo 7 euro E poi la singolare storia, che anche questa arriva da Perugia, di un parroco Che non ha la chiesa dove dir messa E dunque ha costretto ogni domenica a pagare un affitto per poter dare ai fedeli questa opportunità Accade anche questo, curiosità, Borgobello spunta un capriolo all'interno di una tabaccheria E poi a Terni, dove si vota, il comune, che è in dissesto finanziario Spende tuttavia 330 mila euro per gestire le elezioni La prima pagina del messaggero, la spinta dei piccoli prestiti Dal lavoro ai consumi si rafforza il ruolo di banca etica per assecondare la ripresa Sempre più ascolto anche a privati ed imprese E gli impieghi volano sopra 26 milioni Anche il messaggero parla di rifiuti Perugia, rifiuti dal 2019, non ci saranno più emergenze Lo dice Luciano Piacenti, che è la D di Gesenu E poi, sempre da Perugia, aggredita e ferita per 7 euro in borsa Da Spoleto, ricorderete, e lo leggeremo poi in cronaca La storia delle ragazze del giro di Baby Squillo Ragazze costrette a prostituirsi In aula sono state portate ieri le intercettazioni di questo orrore E poi, andiamo a Terni Tasse sicurezza, sagre KO, uno spelaio della regione Perché era arrivata in questi giorni la notizia di alcune sagre Ternanne che avrebbero deciso di non esserci Per gli oneri troppo alti Sia in termini di sicurezza Sia di occupazione del suolo pubblico Messo dalla comune Che è in dissesto finanziario E quindi in qualche modo deve fare cassa Andiamo nel dettaglio a leggere Le notizie nelle pagine regionali Partendo dal Corriere dell'Umbria Che ormai da qualche giorno si occupa di Tari Ovvero la tassa sui rifiuti La saga dello scaricabarile I sindaci prima aumentano le tasse Poi sfilano a fianco dei cittadini Riversando su altri tutte le colpe I sindaci insomma sono chiamati ad un'operazione verità Tutto nasce, lo sappiamo, da una protesta Che avviene nel Ternano Dove i cittadini sono scesi in strada Perché si sono trovati in bolletta Aumenti davvero vertiginosi Ma su questo argomento Oggi il Corriere pubblica anche La lettera inviata al quotidiano Dal sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti Non tutti i sindaci fanno i furbacchioni In particolare racconta Il primo cittadino gualdese A Gualdo Tadino La raccolta differenziata Ha raggiunto il 67% E la Tari in 4 anni È scesa del 13% Tutto deriva, dice, da una gestione oculata Della municipalizzata A Gualdo infatti La raccolta differenziata è gestita Da la ESA Una società municipalizzata Quindi non rientra Gualdo Nella gestione generale Di altre società ben più grandi E ancora, dice Presciutti I sindaci sulla Tari Non ci marciano Ma devono molto spesso Fare dei salti mortali Per far tornare i conti Quindi insomma Una difesa dei colleghi Primi cittadini Ancora dalle pagine regionali Trasporti da 56 milioni di euro Gara europea All'insegna dei tagli Al via Alla fase di preparazione del bando Per l'appalto di 28 milioni di chilometri Questo è il totale Dei chilometri percorsi Dai trasporti pubblici Umbri Comitati Pro Vita all'attacco Ma a Marsciano i manifesti Vengono ricoperti di insulti Li avrete visti un po' In questi giorni Un po' in molte città Anche dell'Umbria Il comitato Pro Vita Che si batte per Contrastare l'aborto Ha fisso dei manifesti Ebbene a Marsciano C'è chi non rispetta Questa libertà di pensiero E li ha Offuscati con delle scritte ingiuriose Ma spicca il caso Proprio a Marsciano Del sindaco che aveva Ordinato di coprirli Per non offendere La sensibilità Di chi poi sostanzialmente È favorevole All'aborto Tutto questo aveva creato Lo immaginerete Ampia polemica Andiamo alla nazione Che in primo piano Racconta questa terribile storia Che arriva ad Assisi Violenta la figlia di 12 anni La madre registra la confessione Il papà Così imparerai a difenderti Allora il fatto sarebbe avvenuto Ad aprile scorso Una ragazzina di 12 anni Che è figlia di due genitori separati Passa alcuni pomeriggi A casa del padre Altri con la madre Ebbene in uno di questi pomeriggi Secondo il racconto della ragazzina Il babbo le avrebbe detto Te lo faccio Cioè ti violento Così ti puoi difendere Da chi ti vuole Violentare Le parole sono di un padre Che poi ovviamente è stato arrestato A 50 anni A denunciare Quest'uomo È stata l'ex moglie Nel momento in cui la figlia 12 anni è tornata a casa Ha raccontato Di questa terribile esperienza E ora dovrà comparire davanti al giudice Attualmente ovviamente è agli arresti Questa da Assisi Andiamo avanti Parliamo di viabilità Perché a Perugia è stata aperta La cosiddetta guerra alle buche Ovvero interventi nel piano strade 2018 Per poter risanare le emergenze Dove si interviene Entro giugno si interviene In via Antinori Via Pellini Via Vecchi Via Dottori Via Mentana E via Di Carpine Mentre dopo l'estate Si andrà nella frazione di Casaia E poi in via Ventisettembre Via Ripa di Meana E via Gallenga Intanto però Montevile non sarà rifatta La regione ha detto no Il comune aveva chiesto risorse Per 595 mila euro Ieri c'è stato dibattito anche in regione Sulla viabilità in generale In particolare il Movimento 5 Stelle Con Maria Grazia Carbonari Aveva chiesto incentivi Per l'utilizzo di auto elettriche Andiamo a parlare di storie nere A Cora a Perugia Donna scippata per rubarle 7 euro Finisce a terra con una grave lesione Il fattaccio accaduto in Via Fiume Erano le 10 di ieri mattina La vittima attualmente è in ospedale E verrà operata Ha battuto la testa In borsa Aveva solo 7 euro Insomma tutto questo davvero Per un magrissimo bottino E ancora storie nere Non so proprio cosa mi sia scattato E' pentito il papà Pugile di Assisi Ve l'abbiamo raccontato qualche giornata fa Una lite tra due papà Per via dei figli Che vanno all'elementare Che avevano discusso per qualcosa di banale Uno dei due genitori Ha sferzato un pugno in faccia All'altro Che è finito anche in ospedale Con un possibile distacco della retina E poi il rogo di Nocera Anche questa è una bruttissima storia Che arriva ormai da anno scorso Il 55enne Che ha tentato di uccidere Bruciando la viva La propria ex convivente Ebbene Ora compare davanti al giudice Per il processo E come testimonianza Ci sono anche le intercettazioni Le registrazioni Fatte in cella Quando incontrava i propri familiari Ancora in evidenza Siamo a Monteluce Per raccontarvi questa storia Davvero singolare Parrocchia senza chiesa Ogni messa costa 250 euro d'affitto La storia è quella di Don Nicola Che si trova senza chiesa Perché di fatto risulta essere inagibile Causa terremoto Ebbene E' inagibile dal 20 marzo del 2017 Ebbene Per poter dire messa Affitta ogni volta Un salone della Nuova Monteluce Spendendo circa 1000 euro al mese Capite che la situazione È diventata insostenibile Ieri in consiglio regionale Si è parlato Delle liste d'attesa Troppo lunghe Persone che vanno A prenotare Delle visite Che devono aspettare A volte anche più di un anno Ebbene L'assessore regionale Barberini Ha detto Che i tempi Stanno diminuendo I tempi nelle liste d'attesa Stanno diminuendo Il sistema è destinato A funzionare meglio Ma ovviamente Restano attualmente Le difficoltà L'Unione fa la forza Siamo a Perugia I commercianti compatti Pensano già al Natale Hanno costituito Una associazione Che non ha Quello Non ha come scopo Quello di prevalere O contrapporsi Agli organismi Giaesistenti Ma quello di collaborare Affinché il centro storico Possa uscire Dall'immobilismo In provincia Si è approvato Il bilancio Conti in ordine Dice il presidente Mismetti Spesa corrente Ridotta di 12 milioni Di euro E poi All'università Per stranieri Si cerca il nuovo rettore Ecco la sfida Di Giovanna Zaganelli Una ricetta tutta mia Per l'Ateneo E ancora La curiosità Siamo sempre a Perugia Borgo 20 giugno Guardate questa foto Se riuscite Un bellissimo capriolo Che è entrato In tabaccheria Presumibilmente Alla ricerca di cibo Immaginate Lo stupore Del titolare Per la pagina Della cultura Vi segnaliamo In alto i calici C'è Cantina Aperte Dalla Trasimena Ai Colli Orvietani Domani e domenica Appuntamento Nelle cantine Umbre Questo per le pagine In evidenza Della Nazione Andiamo al messaggero In particolare Ci parla Di Prestiti Eccolo qua Ripresa La spinta Dei piccoli Prestiti Sempre più Imprese E privati Si rivolgono A banca Etica Parla Stella Che dice In totale Sono già stati investiti 26 milioni Di euro Parliamo della fondazione Cassa di risparmio Di Perugia Nutrizione E ambiente C'è un bando Da 300 mila euro Per Chi Investirà In questi due settori Università Per stranieri Scelti I grandi elettori Nel vivo La sfida Tra Bolli Terrinoni E Zaganelli Vedremo Come finirà Queste le pagine In evidenza Nel dettaglio Le pagine locali Ripartendo Dal Corriere Dell'Umbria Siamo a Perugia Con castrisce blu A tariffe ridotte Ci siamo Prima dell'estate Impegno assolto L'assessore Casaioli Dice Un'area sosta Per 100 posti auto In Borgo 20 giugno E poi Alla stazione Di Fonteveggia Presi due Spacciatori Di eroina Uno di questi Era tunisino Ancora A Perugia È ancora aperto Il dibattito Sul futuro Del mercato coperto Per gli ambulanti Non ci saranno Stand In via Pellini E poi Scippata e ferita Per soli 7 euro L'abbiamo vista È accaduto ieri mattina A Piazzale Europa Erano solo le 10 La signora Ha 65 anni Attualmente Si trova ricoverato In ospedale Ha battuto la testa E poi Questa iniziativa Li vedete Questi due signori Faranno sbarcare A Perugia La banca del tempo Che cosa vuol dire? Una banca Dove non si porta denaro Ma dove ciascuno Metta a disposizione Del tempo libero Per aiutare Gli altri Il quartier generale Sarà La città Del sole Sarà Sì La fondazione Città del sole Andiamo A parlare di Magione Con una bella iniziativa Gli etruschi Acchiappa di turisti La mostra Tarz Minas In un mese Ha richiamato Mille visitatori In programma Tanti altri eventi E poi siamo ad Assisi Riorganizzazione del traffico C'è un nuovo piano allo studio In particolare Si cerca di capire Se per gli accessi In centro storico Ci si possa Basare Su periodo Zone E categorie Insomma Non fare una chiusura Tutta unica Quale per tutti Ma andare a zone A confronto Sui problemi Del Monte Subasio Se ne parla Alle 21 A Santa Chiarella E poi Il calendimaggio Si chiude con le due cene finali Organizzate dalle parti Mentre a Bastia Umbra Cade da un metro d'altezza Operaio finisce in ospedale L'incidente è accaduto Nella zona di Santa Lucia Ancora dal Corriere dell'Umbria Ci spostiamo in territorio Alto Tevere In particolare Città di Castello Bocca Trabaria Rimessa a nuovo Entro novembre Un milione di euro Per la frana Che blocca la strada Da mesi Interventi in arrivo Anche per rifare l'asfalto Sulla Pecchiese Iniziativa Dell'Istituto Benanzio Gabriotti E Fai A spasso per la città Per conoscere la storia Appuntamento Domenica Dalle 16 in poi Con il ritrovo In piazza Gabriotti Bandali Al Parco dei Cigni Di Città di Castello Distrutti alcuni giochi Solo pochi giorni fa Cittadini e bambini Delle primarie Avevano ripulito Tutta l'area Ma poi purtroppo Gli stolti Prolificano Andiamo avanti Siamo a Gubbio Balestra Tutto pronto per il palio Torna domenica La secolare sfida Tra Gubbio e Sansepolcro Che si contenderanno Il drappo dipinto Da Ivana Olimpia Belloni Iniziativa O a giugno L'Istamit Con partecipanti Da tutta Italia Il tema di questo Istamit Sarà Gli antichi mestieri Raccontati sui social E poi La cronaca Uno scontro Tra auto Ieri in piazza 40 Martiri Ma non c'è pericolo di vita Per nessuno Cittadini Nerba Il progetto del Rotary Che durante l'anno scolastico Ha coinvolto i ragazzi Di Mastro Giorgio Ed Ottaviano Nelli Andiamo a Gualdo Tadino Gli alunni della Tittarelli Sono a Jesolo La quinta Che ha realizzato Il cortometraggio Vincenti Tutto per conquistare Il premio di Chuck Junior E poi Annocera Si continua a parlare Di casa di riposo Senza fondi Scatta il trasferimento Il sindaco Bontempio infatti Dice che a fine mese Volenti o nolenti Questa casa di riposo In difficoltà finanziarie Chiuderà Intanto però Barberini L'assessore Regionale Barberini Ha assicurato sostegno Forse anche fino a settembre Ma poi gli anziani Andranno trasferiti In una residenza protetta Andiamo a Foligno Foligno segue con interesse Le vicende politiche nazionali Perché? Perché questo Possibile nuovo Ministro Insomma tutto da vedere Dell'economia Paolo Savona In realtà È un folignate D'adozione Il papabile ministro Infatti è legatissimo Alla città È stato uno dei fondatori Dell'associazione Nemetria Ancora sfida tra sei scuole Per il concorso Il giorno delle stelle Oggi gran finale All'auditorium E poi In consiglio comunale L'appello Gli ex dipendenti Della Fils Che era una partecipata Del comune Ora sono tutti alla Caritas Insomma Si trovano in gravi Difficoltà finanziarie Sporcizia Nei sottopassi Delle scuole A Foligno Sono gli studenti E gli insegnanti A lanciare il grido D'allarme Al comune Dicono Deve pulire Ai cittadini Che abbandonano Rifiuti Ovviamente Va la loro condanna A Spoleto La crisi del teatro lirico Soluzione in alto mare Manca mezzo milione di euro Per far quadrare I conti Di questa storica istituzione Arriva Salvini A sostegno di De Agustinis Ricordiamo che a Spoleto Si vota per le amministrative Il leader della Lega Sarà in piazza Garibaldi Domenica sera Martedì Arriva anche Bertolaso E poi ricorderete Questo fatto Che è stato scoperto Qualche tempo fa Ovvero Spoleto Al centro di un Circuito Chiamiamolo così Di Bebisquillo Ebbene Si è aperto il processo A carico di un 55enne Che è l'unico Che ha scelto Il ritabbreviato Si tratta di uno Spoletino Che è stato imputato Di induzione Della prostituzione Minorile E violenza sessuale Aggravata Perché le ragazze Che venivano costrette A prostituirsi Erano tutte Di età minore A Terni Anche qui si vota Sono l'avvocato Del popolo ternano Oggi focus Su Leonardo Latini Che si impegna Con la città Parafrasando Il professor Conte Domenica torna Salvini Per il congresso Della Lega Ma attenzione Perché arriva anche L'altra voce Diciamo così Di quello che ormai È il governo Cioè Luigi Di Maio Che domani sera Sarà in piazza Ovviamente Per sostenere I 5 Stelle Questo per il Corriere dell'Umbria Andiamo Alla nazione In particolare Da Gubbio Sport e turismo Nel segno Del rugby Ma alcuni albercatori Non ci aiutano Ieri Il rugby Gubbio Ha presentato Il torneo Di mini rugby Lupo da Gubbio Ricordiamo Sono tanti bambini Che tra sabato e domenica Circa mille Arriveranno in città Ma Il presidente Ha anche sottolineato Come la disponibilità Da parte degli albergatori Non sia totale Di tutti gli albergatori E ha anche sottolineato Una mancata disponibilità Di alcune strutture sportive Gubbio I vigili del fuoco Recuperano un capriolo Che si era ferito Alle zampe Al montingino E poi Davvero bella Questa storia Suora Morza da vipera È illesa La storia arriva Da Gualdo Tadino In particolare Una suora Era Passeggiando Aveva Sentito Un piccolo picco Al piede Non aveva dato Molto credito Aveva proseguito La sua operazione Di camminata E di preghiera A sera poi però Si sente male Quindi si rivolge Ai sanitari Si scopre Che era stata Punta Morza Da una vipera Un morso Che dicono i medici Il più delle volte È assolutamente fatale Se non si interviene Immediatamente Invece La sua reillesa Che ovviamente Vista anche La sua fede religiosa Ha Parlato Di una protezione Speciale Di carattere divino Andiamo a Gubbio Sentiero Francescano Arriva Vivi la via Volontari Fanno scattare L'operazione pulizia L'appuntamento È a San Pietro In Vigneto Alle ore Si parte alle ore 8 di sabato mattina Per la ripulitura Di questa zona Andiamo a Città di Castello Un branco di lupi Sbrano una mucca Gravi danni Non ne possiamo più Parlano gli allevatori Ancora Città di Castello Centro storico Passato Al setaccio Due giovani Sono stati trovati In possesso di droga E poi puliamo il parco Tutto insieme Contro il degrado Al quartiere latina Svolta sulle starade Bocca tra barie Da pecchiese Arrivano soldi E progetti La flana È stata determinata Da infiltrazioni Di acqua A Umbertide Ci sono ancora Scintille Nel mondo del PD Che è ai ferri corti E poi Foligno Sotto assedio Il piazzale Dell'ospedale Parcheggiatori abusivi Sono davvero Una piaga Nel nome del rispetto Coinvolti Oltre 2500 ragazzi E poi Caos traffico A Cascia Per la festa Di Santa Rita I commercianti Dicono L'ingresso al paese È stato bloccato Per tutta la settimana A Terni Ecco quanto ci costano Le elezioni Il comune Stanza 330 mila euro Ricordiamo Che è un comune In dissesto Finanziario Andiamo al messaggero Con le sue Pagine locali Ed eccoci qua In particolare Parliamo di rifiuti Dal 2019 Stoppa le emergenze Ma dobbiamo Differenziare meglio Intervista oggi A Piacenti A Didi Gesenu Che dice La situazione Va E andrà Verso la normalità In pochi giorni Per Ponterio C'è un progetto Anti cattivi odori E poi Furti nei parcheggi Dell'ospedale di Perugia Assalti Anche alla benzina Siamo al Santa Maria Della Misericordia Auto Con i tappi Del carburante Aperti Perché viene succhiato Il carburante La controffensiva Dell'Asla È controlli E video sorveglianza A Fontivegge Un tunisino È stato preso Con 270 dosi Di eroina E poi Ci spostiamo Nel territorio Di Todi Ruggiano Taglia due spine Il sindaco È il caso Del comandante Della municipale Dice la legge Dice Ruggiano E c'è anche L'ok dei sindacati Ancora Da città di Castello Arrestato in centro Con un etto di droga E da Bastia Un operaio Cade in un cantiere E finisce in ospedale Attenzione al fine settimana Del vino Da Scheggino A Corciano Weekend Tutto da gustare Con cantine aperte E poi A Foligno Avis Emergenza Sangue Servono nuovi donatori Importante collaborazione Con l'Istituto Superiore Orfini Ma nel 2017 L'azione Di 2600 volontari Ha permesso Di raggiungere quota 3900 donazioni Ma ne servono Di più Lo strano caso Dei cavi sbucciati Si indaga Sull'ipotesi Di furto di rame L'abbiamo raccontato ieri Ritrovati questi cavi Che erano letteralmente Aperti Sbucciati Presumibilmente È stato rubato Il rame Che stava all'interno E poi Freccero E l'Altramente Festival Per parlare Di malattia mentale Entra nel vivo Il festival L'Altramente Promosso dall'Associazione Liberi Di Essere Oggi alle 10 A Palazzo Trinci C'è Questo appuntamento Che vi abbiamo Segnalato Spoleto Ragazze costrette Alla strada Le intercettazioni Dell'orrore Si è aperto il processo A carico Del 55enne Spoletino Ritenuto Colpevole Quindi imputato Per il caso Del baby squillo Rinvenuto Trovato Scovato A Spoleto Andiamo a Terni Sicurezza e tasse Sagre K1 Spiraio Dalla Regione Ce ne siamo occupati Nei giorni scorsi Le sagre ternane Che non riescono A sostenere I costi Sono in preparazione Delle linee guida Intanto Dalla Regione Dovrebbero arrivare Sostegni Proprio per Quanto meno Affrontare La questione Sicurezza Questo per le pagine Di interesse regionale Ci fermiamo Per qualche momento E poi parleremo Di sport Grazie a tutti Grazie a tutti